La nostra struttura opera nel mercato del B2B da lungo tempo. La grande esperienza del nostro gruppo, la competenza di un team scelto, l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, ci consentono di presentare un panel di proposte uniche, costantemente aggiornate, realizzate in stretta collaborazione con il cliente, in grado di rispondere a ogni richiesta di promozione. Realizziamo progetti su misura, ideando concept, progetto grafico, editing, veicolazione e promozione del prodotto su ogni piattaforma, fissa o mobile. Una riconosciuta capacità innovativa ci ha permesso di sviluppare e consolidare collaborazioni con numerose aziende che operano nei più svariati settori pubblici. Costruendo iniziative per promuovere le valenze del territorio, Abbiamo seguito e ascoltato le diverse necessità con cura e soddisfazione. Abbiamo condiviso con interlocutori della pubblica amministrazione progetti di ogni natura, da volumi importanti fino ai dispositivi di ultima generazione. Abbiamo realizzato prodotti editoriali multitarget in tutte le lingue richieste, con approcci differenti. Culturali, storici, enogastronomici, di tradizione, divulgativi e di servizio. In alternativa ai prodotti più tradizionali, abbiamo proposto filmati e videogiochi educational. Reali o cartoon segnano un nuovo traguardo, un modo di comunicare ludico e al tempo stesso educativo. Grazie a un linguaggio e ad un media familiare come il cartone animato, il filmato stimola e incuriosisce lo spettatore molto più che un classico documentario. Riprodurre il territorio, la gente che lo vive, la flora e la fauna che lo caratterizza, dare le corrette informazioni in una veste non solo accattivante, ma professionale e ben confezionata, è vincente, innovativo e particolarmente coinvolgente per il giovane pubblico. Il trend è forte, piace ai ragazzi perché fa largo uso di videografica in 3D, utilizza effetti sonori e rumori d'ambiente enfatizzanti, è in linea con i moderni sistemi di comunicazione. Grazie al cortometraggio si può insegnare con gioia e divertimento, mostrando comportamenti virtuosi, ambienti, animali non facilmente avvistabili. Nelle nostre produzioni i filmati reali, di grande fascino, si integrano, quasi dialogano con i personaggi di fantasia realizzati in 3D, portando i piccoli telespettatori a immergersi nella natura dei coloratissimi parchi naturali con allegria, curiosità e incanto. Unire il vero al sintetico, il reale al virtuale, è una tecnica che abbiamo usato spesso in TV. Disponiamo all'interno della nostra struttura di tutte le apparecchiature necessarie, senza dover noleggiare nulla. Ecco perché possiamo proporre ai nostri partner questa tecnologia a costi estremamente contenuti. Unendo attori e grafica 3D, si possono ricreare ambienti reali e far convivere avatar e personaggi guida di fantasia. Per le fiere o i vostri spazi espositivi, pensate poi al video stereoscopico, comunemente conosciuto come film in 3D, quello con gli occhialini. Con la visione stereoscopica, il pubblico entrerà in una dimensione in cui gli oggetti e i protagonisti si staccheranno dallo schermo. Ogni elemento del vostro filmato si muoverà su un piano diverso per allontanarsi o raggiungere lo spettatore. Siamo tra le poche strutture in Italia in grado di realizzare al proprio interno video in 3D e di fornirvi gli strumenti per poterli vedere. Visitate il nostro sito www.giuseppegagliano.com per vedere come altre aziende e amministrazioni, leader nei propri settori, si servono abitualmente delle nostre tecnologie. www.giuseppegliano.com